Sofico Degoni ha lasciato Alessandro Basciano Sirius. Non pensavo che fosse così finita tra Sofico Degoni e Alessandro Basciano era l'ex GFina che ha annunciato il guasto e spiegava le ragioni dell'addio. Sofico Degoni ha annunciato la fine della relazione con Alessandro Basciano. I due. Lo scorso maggio. Sono diventati genitori di Little Celine. In una dichiarazione rilasciata nelle storie Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente Big Brother spiegato aveva messo fine al rapporto con il suo partner per motivi seri. Sofico Degoni annuncia la fine della relazione con Alessandro Basciano Sofico Degoni ha annunciato la pausa con Alessandro Basciano in una storia pubblicata su Instagram con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirti che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose serie. Alcune delle quali hanno scoperto solo di recente scoperto di recente. Chi mi ha portato a prendere questa decisione? Purtroppo non avrei mai pensato che la persona al mio fianco. Così come il padre di mia figlia. Potesse ottenere così tanto. Le ragioni della pausa tra Sofico Degoni e Alessandro Basciano la cronologia di Instagram con cui. Sofico Degoni ha annunciato la rottura Sofico Degoni ha continuato nel suo sfogo e ha spiegato. Si sarebbero verificati dalle vicissitudini che l'hanno ferito e quindi non sentivano più. Continuasse a portare avanti questa relazione non è una scelta leggermente fatta. Ma seguendo le vicissitudini che mi hanno reso davvero male e a cui non posso passare per il rispetto per me stesso e la nostra bambina. Continuerò a lavorare attraverso i social network. Cercando sempre di portare positività e il mio sorriso come ho sempre fatto e come è giusto essere. Nel momento in cui devo prendermi un momento di tempo per metabolizzare tutto. Non ti neghi che sono davvero a pezzi. Ti ringrazio sempre per il supporto dammi e ti chiedo un po' di tempo per superare questi eventi che mi hanno superato al momento. Pensavo di avere una persona diversa accanto ad esso. Ma mi sbagliavo. La decisione di andarsene arriva dopo il recente pulse primavera. Al momento. Alessandro Basciano non si è ancora espresso in questo senso.